Nel comune di Troia scuola niente più acqua nelle bottigliette di plastica. 350 piccoli alunni delle scuole elementari potranno usare le leggere, colorate e soprattutto ecosostenibili borraccine in alluminio donate da Edison. Ogni bambino ha infatti consegnato al sindaco di Troia, Leonardo Cavalieri, una bottiglietta di plastica e ricevuto in cambio la borraccina in alluminio, riutilizzabile, esotermica e anche cool. Abbiamo pensato all'azione simbolica del vuoto a rendere, dice il sindaco Leonardo Cavalieri, ma in questo caso è una vera e propria sostituzione della plastica con un materiale duraturo ma riutilizzabile, un primo passo verso il plastic free. L'iniziativa conferma l'impegno di Edison a promuovere progetti e attività di sensibilizzazione su temi della sostenibilità, soprattutto per le comunità e territori dove opera. La società, leader nella produzione di energia rinnovabile, è infatti attiva e incapitarata con diversi impianti eolici. L'ultimo parco è stato inaugurato pochi mesi fa a Troia. Grazie al comune di Troia e a Edison, la giornata odierna contribuirà a rafforzare la coscienza ecologica dei bambini, ha dichiarato la professoressa Michela Ciampi, dirigente dell'Istituto Scolastico Comprensivo Virgilio Salandra di Troia, in chiusura della manifestazione.